Barriera che è stata toccata, ma niente errore. E adesso Cosima. Ingocemo le dita, Luca Marziani con Tokyo. Di su lei, il stallone di 10 anni, se Alfonso è figlio di Montenda, per Papillon Rouge. Bene, sarà Luca ad aprire questa Coppa delle Nazioni, in sede al suo Tokyo. Presente a Sangallo, presente a Rotterdam, ed oggi, qui, a Fasterbo. Campana che suona, si può partire, e andiamo. Ok, primi due salti, il verticale numero 3. Guarda subito a sinistra, organizza la girata. 5, 6, 7, 8, 9, falcate. 4, 5, 6, 7. Bene, alto fino adesso. La triplice e poi la doppia gabbia. 3, 4, 5, 6, 7, tempi, riprende calma, viene corta la combinazione. Adesso deve aiutare, la supera. Fischiano, fanno... Deve fare attenzione al tempo, viene avanti la riviera. 6, 7, tempi, la combinazione, si muove la prima barriera. 76 secondi, deve accelerare, il tempo è stretto. L'ultimo salto, è fuori dal tempo, ma c'è lo 0. Una penalità per Luca, e dunque l'Italia, che inizia con 1-0, macchiato da una penalità. Grande Luca, grande Tokyo du Soleil. Direi 1-0.